Occhio tizzi, attenzione, leao, 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 goool, 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 Raffaele, leao, meravigliau, meravigliau, Raffaele, leao, 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 Raffaele, leao, ed è gole, è gole, è gole, è gole, è scattato, che meraviglia sto leao, che meravigliau, aperti nella difesa della Lazio e ha buccato Pepe Reina, 1-0 per il giro, 3-3, leao, 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 goool, leao, mette al centro, allora leao gli aumenta il voto, alegra, 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 alegra! alleao aumenta il voto, è gole, 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 sono l'ali, sono lì, sono lì, sono lì, sono lì, sono lì, è gole! un bacio, un bacio, tiziano, ma ha signato Giru, 2-0? ma ha signato Díaz stavolta, credo Brian Díaz, il raddoppio del Milan, al finirte primo tempo 3 a 0 Giroud la besta Tiziano 3 a 0 Giroud la besta doppietta di Giroud 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 bravo Diaz anche qua bravo Diaz bravo Teo Teo Hernandez si rifinisce per Olivier Giroud un gol Frank Kessy 4 a 0 Frank Kessy 4 a 0 siamo all'umiliazione